Buongiorno per Notizia Abruzzo, siamo il giorno dopo, quindi Eugenio Seccia è stato eletto con 584 voti consigliere comunale nel gruppo di Forza Italia. Lei è soddisfatto? Sì, sono assolutamente soddisfatto, è un risultato importante in un momento in cui la lista in cui Milito ha qualche difficoltà, ha dimostrato che qui a Pescara è viva, ha molte persone che rappresentano i valori che la stessa lista porta avanti e quindi sicuramente c'è una grande soddisfazione, tant'è che dai conti fatti sono entrate ben cinque consiglieri. Naturalmente lei è a sostegno del, a questo punto non più candidato sindaco, ma sindaco Carlo Masci, vi siete sentiti, vi siete abbracciati, cosa vi siete detti? Sì, ieri siamo abbracciati in sala consigliare, lì proprio nel comune, pochi minuti dopo aver acclarato ovviamente della sua vittoria e della mia elezione, siamo abbracciati, gli ho detto che se lo meritava, se lo merita questa responsabilità del governo della città, perché come dice lui ama Pescara e ha molte idee, io ovviamente contribuirò, spero a essere squadra con lui per poter implementare molte idee che ovviamente possono essere di supporto a quella che è la linea principale del sindaco, oramai non più candidato sindaco. Quindi bisognerà definire la squadra intendendo l'aggiunta comunale, ci sarà tempo, insomma, un suo obiettivo adesso come consigliere comunale e forse come futuro assessore? L'obiettivo è quello dichiarato in campagna elettorale, cercare di far far pace, come si dice un tempo, tra la cittadinanza e l'amministrazione comunale, affinché i cittadini vedano l'amministrazione comunale come un'amministrazione in grado di andare a soddisfare le proprie esigenze e certe volte di anticiparle nelle richieste di questa soddisfazione delle esigenze da parte dei cittadini. Quindi dovremo semplicemente applicare il buonsenso, idee innovative, metodo per la soluzione di problemi vecchi che non sono stati risolti precedentemente dall'amministrazione uscente. Bene, a questo punto ringraziamo Eugenio Seccia, soddisfatto. Come possiamo concludere questa nostra chiacchierata? Grazie, grazie della fiducia che avete dato al Sindaco Masci, grazie della fiducia che avete dato a me e agli altri consiglieri, cercheremo per i prossimi cinque anni di non deludere le aspettative che sono tante per la città. Bene, grazie a lei e buon lavoro.